allora nel frattempo che loro finiscono di costruire tutto questo che si stanno rallentando tantissimo non so per quale motivo questo qui magari potremmo far diventare con una cella di isolamento quindi porta di sicurezza mettiamo qua stanze isolamento ecco qua sempre quando finiranno di costruire tutto che sanno ancora costruendo tutti i pavimenti qua dentro il magazzino è pure ultrapieno dovevi fare anche questo come magazzino a questo punto no però qua c'è lo spazio quindi non è questione di maes di magazzino forse come consegne ho assunto altri lavoratori sperando che facciano prima allora adesso vogliono passare di qua come previsto vediamo se ci riesco a mettere uno di questi finalmente l'hanno messo quindi se riesco a prendere allora faccio così connetti a questo a adesso non hanno bisogno della guardia per passare abbiamo un piccolo problema sto aspettando che facciano le celle ma siamo rimasti a corti di soldi quindi dovevo aspettare che arrivano questi detenuti per guadagnare qualcosina cioè 12.500 dollari vabbè arrivano tra poco anche perché dovevo fare dei tubi per collegare tutte queste cose qua che ho fatto però qua non arriva abbastanza potente cioè potenza di acqua quindi dovrei fare delle tubature grandi per portare l'acqua fino a sopra e qua non l'ho fatta proprio qua ok è arrivato qualcosina vediamo se riusciamo a risolvere il problema dell'acqua almeno ok mettendo una tubatura grande qua e collegandolo a fianco dovremmo aver risolto anche il problema dell'acqua qui non mi hanno fatto le pareti perché ogni tanto si dimenticano di fare le cose pure qua e anche qui è un'altra cosa strana è che perché non ci sono le luci ma iniziamo bene iniziamo ah finalmente un po' più illuminato si inizierei a mettere anche qualche altra luce qua ok siamo arrivati a 193 celle manca poco per i 200 quante ne mancano effettivamente altri 7 no 194 sì quindi altre 6 celle se facciamo 6 celle raggiungiamo anche quell'altro step ok vediamo se riusciamo a farlo in una posizione un po' più easy invece di fare un altro blocco così anche perché poi non so le mense ce la fanno a sostenere tutte queste celle questo non c'ho su questo non ci ho pensato mi ero dimenticato che dovevo fare le mense e quant'altro fondamenta e qui faremo una super mensa altri con magari quattro celle ne approfittiamo facciamo anche 6 celle porta mettiamo porta personale per adesso qua e qua ci sono state due morti abbiamo a disposizione anche 6 alberi 1 2 3 4 5 un altro albero qua 6 allora posso sfruttare quest'altro poco di spazio qui per fare un'altra cella qua oppure invece di mettere la porta qua ce la metto laterale qua così così qua posso fare ancora un'altra cella 1 2 3 che deve essere chiusa qua così ok abbiamo fatto anche due celle qui quindi ne abbiamo 196 altre quattro celle solo altre quattro celle quattro celle vabbè sfruttiamo questa per le quattro celle sì per forza dai oppure questa potrebbe essere una cella stanza cella e anche questo invece di farlo isolamento facciamola diventare una cella scusami eh allora vuole solo un letto e un gabinetto altre due celle altre due abbiamo finito no no sto pensato a quello che sto pensando io farle proprio qui trasformare queste in celle vediamo se possiamo sfruttare un altro poco di spazio non vorrei fare due celle qua se voglio fare la mega mensa qui allora faccio un po' di fondamenta qua mi allargo qui e le faccio qua basta che cacchio di casino qua ma che è successo mi hanno ucciso il comandante allora qua è pronta dai quindi 1 2 3 possiamo chiudere anche da qua volendo possiamo farla anche più grande potremmo fare altre celle migliorate penso che queste basse lo so che stiamo sprecando un sacco di spazio qua potevamo sfruttarlo in modo migliore però poi vedremo successivamente come come fare sfruttare la struttura diciamo ok vediamo un po' la pianificazione per fare la nostra cucina allora volevo fare una bella cucina grande qua così poi le menze tutte attorno tipo così però visto che le menze potremmo sfruttare la larghezza ok o almeno in parte la cucina la potremmo fare anche un po' più grande tipo partendo da qua ok facciamo finta che questa è la cucina rivolta in corso oddio rivolta in corso attenzione qui hanno preso anche in ossaggio delle guardie quindi come emergenza polizia antisommossa e dei medici schieramento chiudiamo tutte le celle è arrivata la squadra antisommossa è finita la sommossa mi sta dicendo questo ok non devono curare nessuno andiamo da questi ok tutto si è risolto come se nulla fosse successo adesso potremmo acquistare anche i lati della celle vabbè abbiamo raggiunto le 200 posizioni 200 celle quindi come sonvenzioni blocco ti l'abbia fatto adesso con i blocchi 500 prigioni e attenzione aspetta aspetta ok facciamo queste due potremo fare investimento a breve termine investire il denaro che ti frutterà negli interessi discreti ok quindi come si fa per investire a non devo avere nessuna morte per poter vendere le azioni va bene va bene va bene allora ritorniamo al nostro progetto se la cucina la facciamo così noi la mensa cioè dove loro poi vanno a mangiare potremmo farla qua così grande potremmo farla qua scusami qua e poi non è più così grande qua e qui sono sette metri qui sette metri arriverebbe qua quindi dovrebbe andare così e pure questa vai ci sto questa è tutta cucina allora quindi vuole il frigorifero se i frigoriferi vanno bene ah giustamente non gli abbiamo messo una porta ok abbiamo detto frigorifero lavandino e fornello lavandino e i fornelli e adesso faremo la nostra mensa che sarà tutta quanta acqua attorno così questa 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 ok quindi servono i tavoli e le panche 4 morti oggi ma mi stanno uccidendo tutti 38 guardie cinofle ci sono ma che cacchio mentre sto facendo la mensa qua e mo servono i tavoli per servire quindi i tavoli per servire li mettiamo tavola per servire li mettiamo qua ma ecco perché c'è un un errore qua bah allora adesso qua possiamo mettere 25 lavoratori in cucina ottimo vediamo però questa cucina chi è destinata no solo la cella di isolamento ma che sei pazzo allora questa mensa qui mi deve coprire anche questa zona qui e questa perché questa è sovraffollata con tutte queste celle qua tutte queste celle queste vanno qua ok adesso si oh 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 rivolte in corso proprio qua nella cucina allora sbatti tutto in cella chiudi tutte le celle tutte le porte chiamiamo la polizia subito e dei paramedici apriamo le celle facciamo entrare qualcuno veloci qua paramedici qua buco a volontà vai buco a rivolta sono per essere uccisi tutti anche loro oh 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 nemmeno non ce l'hanno fatta ce ne vogliono di più guardie armate venite qua ok sono arrivate le altre squadre faccio unire qua anche loro qua e vediamo se riusciamo ad aprire i settori ok sono arrivati i medici loro però me li metto un attimo più sopra li faccio entrare dopo ah ma pure qua c'è stato perché loro non vanno venga sono bloccati vediamo se mi arrivano queste altre guardie e funzionano quelle sono bloccate la allora vediamo se riusciamo a liberare anche questa posizione ok ok qua è liberata adesso ci deve dare una mano a venire di qua ok entrate voi i medici dietro fermatemi fermatemi adesso stanno questi di qua cacchio avevi fucile ah loro bravi bravi fuoco a volontà uccideteli questa ha le chiavi ok ok fermiamo il fuoco a volontà prima di uccidere tutti ok vedete se riuscite a curare questi detenuti qua prima che muoiano eh poca a volontà basta allora tutti nelle celle forza veloci poi rianniamo le persone si continuano a a reagire guarda questi che hanno le chiavi reagiscono ancora cioè sono ancora qui allora ragazzi penso di aver tutto sotto mano credo però la cosa strana è che tu poi li guarisci e loro di nuovo che si infurano e poi vogliono uccidere tutti e fanno macelli quindi ho detto fuoco a volontà e sbatti tutti in cella basta facciamo anche la perposizione a tappeto di tutti questi qua sono morti tutti li possiamo chiudere c'è uno ferito qua vediamo se riusciamo a guarirlo tu vedi se riesci a guarire questo ok basta così potete andare grazie abbiamo solo 19 guardie su 72 ok un po' di guardie in più guardie armate solo 9 11 vabbè togliamo il fuoco a volontà e togliamo il fatto che devono stare tutti in cella ecco qua sapevo che chiamava l'amministratore delegato quello di ieri è stata una pessima giornata per la nostra prigione troppe persone hanno perso la vita eh grazie assicurati che oggi non muoia nessun altro altrimenti finirà in tribunale con l'accusa di negligenza criminale questa è una sfida talmente davvero davvero dura perché il fatto di assicurare che non muoia nessuno è davvero difficile muoiono sempre qualcuno nella nostra prigione ecco qua questo già potrebbe essere la prima persona che può morire qua va bene ragazzi dopo aver costruito questa mega mensa aver fatto un po' di soldi vedete ci tocca una sfida davvero davvero importante non far morire nessuno per 19 ore c'è massimo 5 morti perché lui dice se oggi si verificano troppe morti finirà in tribunale quindi massimo 5 morti ce la faremo ad affrontare questa sfida lo scopriremo nel prossimo episodio di Prision Zerk quindi io vi ringrazio come sempre per la visualizzazione del video vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e a passare sulla pagina di telegram dove vi mostro anche le prime delle cose qui lasciare un bel like e da Zerk è tutto ci vediamo in un prossimo episodio ciao ragazzi ciao ciao